eh no, non devi prendere quello lì eh eh no eh sei andato a prendere qua lo scivola ma io qua non ne ho pensato e infatti, vedi qualche scherzo che ti ha fatto non la prendi bene, apri portati qua eh ma hai chiuso lì eh oh guarda bene il capo ma chiaro eh, occhio guarda qui dire che poi non ripete più Paganini eh qua è zero ma... prima la si uccide perché c'ho l'idea sbagliata questo me l'ho fatto questo mi dà fatica è in vena, è in vena via via she can kilo con la moto 약 a vendere yeah di andare qui sparo a venderle un'ora la